Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi torniamo nella serie di Mr. Meat perché finalmente ci sono novità per quanto riguarda Mr. Meat 2 il prossimo capitolo del macellaio ebbene sì, gli sviluppatori hanno pubblicato sul loro canale YouTube tutti quanti i filmati che riguardano Mr. Meat 1 ma tra questi filmati ci sono anche delle frasi molto importanti che riguardano i segreti del macellaio e su cosa potrebbe accadere nel prossimo capitolo tra l'altro hanno pure pubblicato un post che adesso lo andremo a vedere insieme quindi partiamo subito, ma mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like lasciate veramente più like possibili per supportare la serie di Mr. Meat ma anche per supportare il nuovo capitolo in arrivo se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi come Mr. Meat, Ice Cream, Evil Nun iscrivetevi al canale, attivate la camparellina anche perché qua su questo canale ormai lo sapete, faccio due video al giorno, quindi doppio divertimento adesso direi di partire cominciamo subito e direi di partire proprio dall'inizio di tutto quanto dal primo filmato, ok quindi la intro non la saltiamo perché la vediamo tutta quanta il gioco comincia in questo modo tutta quanta la storia di Mr. Meat comincia in questo modo noi siamo a quanto pare un cacciatore perché è proprio definito cacciatore dei Keplerian stessi dove stiamo arrivando dentro la casa di Mr. Meat siamo stati pagati, ci hanno pagato per poter salvare una certa fanciulla che si chiama Amelia in questo video finalmente cercheremo anche di dare una linearità a tutti quanti i filmati perché effettivamente su questo gioco ci sono ben tre filmati diversi tre fuche diverse la fuga salvando Amelia la fuga facendo arrestare Mr. Meat e infine il filmato dove noi salviamo Rebecca e incluso per il filmato segreto dove Mr. Meat esce fuori e ci viene a dare la caccia quindi finalmente possiamo mettere questi filmati uno dopo l'altro per creare una storia per quanto riguarda Mr. Meat 1 e infine collegarci su Mr. Meat 2 su Mr. Meat 2 sappiamo già dove sarà ambientato il gioco sappiamo già dove sarà infatti nel secondo capitolo del macellaio noi saremo all'interno di una prigione oh mamma mia Mr. Meat vieni qua eccolo lì il nostro caro macellaio il nostro caro Mr. Mittino sei pronto presto a finire in carcere? sei pronto? e mi sa che invece forse era meglio non portarlo in carcere perché lì dentro mi sa che farà un bel po' di roba con minerali dentro via 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 scappiamo scappiamo velocemente apri quella porticina cerchiamo di trovare subito la chiave per andare dentro la fattoria a posto apri qua Mr. Meat macellaio non è di qua meno male meno male non so dove sia finito non lo voglio sapere per una volta che noi sblocchiamo qua troviamo un'altra zona del macellaio macellaio della casa del macellaio questa è la fattoria dove qua lui alleva i suoi eh si stavo per dire polli mutanti i suoi maiali mutanti tenete a mente il concetto di maiale mutante perché molto presto lo assimileremo a pollo mutante di Evil Nan 2 fidatevi perché ci sarà un nuovo collegamento all'interno di questo video troveremo un nuovo collegamento maiale mutante dove vai? effettivamente questo qua cioè via no 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 aiuto 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 mamma mia mamma mia quanto è cattivo è cattivo proprio come polli mutanti come Rustle e Mr.C però non è cattivo come Gammy cioè Gammy quello ci viene a mordere ma poi riusciamo a liberarci invece Rustle e Mr.C sono molto più cattivi sono cattivi come il pollo mutante di Mr.Meet che fa così ma dal nulla mi è sbucato ma dov'era Mr.Meet ma dalle spalle mi ha preso dalle spalle ma che roba va bene dai questa era soltanto una breve partita a Mr.Meet perché adesso passiamo a vedere in filmatica l'ho pubblicato i Keplerians all'interno del loro canale ma soprattutto cercheremo di collegarli con la saga di Mr.Meet ma prima passiamo al post che hanno pubblicato anche se prima di andare non vorrei dire ma qui c'è il maiale che si è buggato a correre qua davanti c'è qui davanti che corre ma non fa niente si è buggato il maiale lì davanti no vabbè soltanto in questi video possono capitare delle cose del genere vabbè passiamo al post che hanno pubblicato eccolo qua questo è il post che hanno scritto i Keplerians proprio su YouTube dove hanno proprio messo intraspettiamo Mr.Meet 2 facciamo un ricapitolamento e cerchiamo di vedere tutte quante le cutscene tutte quante le scene di Mr.Meet e infatti hanno praticamente pubblicato tutti quanti i filmati di Mr.Meet 1 uno dopo l'altro all'interno di una playlist ma soprattutto se noi leggiamo bene la descrizione di quei filmati ci sono delle cose molto importanti adesso andiamo a vedere tutto quanto andiamo a vedere innanzitutto il primo filmato anzi il primo filmato no perché l'abbiamo visto poco fa passiamo subito al filmato successivo ok il filmato che adesso andremo a vedere sarà quello del salvataggio di Amelia infatti come ben sappiamo lo scopo principale del gioco è quello di salvare Amelia la fanciulla che è stata rapita da Mr.Meet ma una volta fatto ciò cosa succederà come proseguire la storia proviamo a scoprirlo insieme ed eccola qua Amelia che viene salvata viene portata via verso la via di fuga verso la fine di questo gioco vai macellaio abbiamo salvato Amelia l'abbiamo portata via ma la storia finirà qua no non finirà qua perché noi molto presto torneremo torneremo e il macellaio dovrà prepararsi ad affrontarci di nuovo ciao Mr.Meet è stato un piacere e infatti come possiamo poi leggere dalla descrizione del video dice ok questo è il finale dove il cacciatore ha salvato Amelia ma cosa farà Mr.Meet subito dopo come proseguirà la storia in effetti comunque noi dobbiamo cercare di collegare questa storia con Mr.Meet 2 che è ambientata all'interno del carcere quindi questo significa che il filmato dove noi arrestiamo Mr.Meet è il filmato finale quello di Mr.Meet 1 quindi significa che subito dopo magari noi torniamo forse perché il cacciatore all'interno di questo gioco all'interno di questa avventura ha trovato la figlia di Mr.Meet Rebecca quindi forse prima ne salvemo Amelia il cacciatore tornerà successivamente per salvare Rebecca infatti adesso passiamo a vedere quel filmato ok stiamo per salvare Rebecca stiamo per salvare Rebecca in questo filmato e qui c'è lo scienziato che sta preparando una pozione un antidoto per salvare la figlia di Mr.Meet dalla mutazione che ha avuto infatti qua si trova in forma maialo-umanoide ma molto presto sta per tornare ad essere una bambina un essere umano ed eccola lì guardatela sta tornando ad essere una bambina sì abbiamo salvato Rebecca l'abbiamo salvata dalla sua trasformazione e adesso è il momento di scapparsene subito via ce ne scappiamo via dal macellaio e caro Mr.Meet però non si è riuscito a fermarci neanche questa volta e adesso si è bloccato stava per fare la lingua però eccolo qua filmato segreto com'è possibile com'è possibile dice Mr.Meet fa cadere un foglio e in quel foglio possiamo notare tutta quanta la famiglia di Mr.Meet e adesso lui dirà io ti inseguirò ti inseguirò fino alla fine dei miei giochi sì dei miei giochi dei miei giorni per tutta la vita qua potevo pure leggere dalla descrizione una cosa molto importante ok qui racconta che il cacciatore è riuscito a salvare Rebecca a farla tornare a una fanciulla come era prima no con l'aiuto dello scienziato ma aspettate Mr.Meet sta cercando di raggiungerli perché perché vuole raggiungere due anzi tre personaggi beh ovviamente presumo perché vuole riportare Rebecca a casa sua e anche perché vorrebbe forse vendicarsi con il personaggio che è il cacciatore questo probabilmente lo rivedremo anche nei prossimi capitoli ma c'è ancora un altro filmato quello dell'arresto perché sì è vero noi adesso abbiamo salvato Rebecca ma è il momento adesso di tornare dentro la casa del macellaio perché è il momento di arrestarlo è il momento di fermarlo definitivamente qui abbiamo visto quindi due filmati dove abbiamo salvato due personaggi ma adesso è il momento del terzo filmato dove noi fermiamo definitivamente Mr. Meat lo sconfiggiamo facendolo arrestare ma sarà una vera sconfitta quella oppure no ma prima di passare a ciò direi di vedere anche un altro filmato molto importante quello del game over dove Mr. Meat ci trasforma in un maiele mutante sì mentre gli altri due game over diciamo sono dei game over meno importanti quelli dove ci taglia ad esempio la gamba ci appenda al muro ci prende a prosciuttate in faccia oppure diventiamo dieta per il maiele mutante di Mr. Meat fra tutti i filmati di game over l'unico che ha un senso collegato con i segreti è quello dove noi diventiamo dei maiali mutanti vediamolo insieme ed eccolo qua Mr. Meat ci sta trasformando in un maiale ci sta dicendo sei così delizioso e ci ha chiuso lì dentro ma sentite bene la canzone sentite bene questa è la ninna nanna di Sister Madeleine e tra l'altro se noi apriamo la descrizione di questo video c'è una frase molto molto importante che collega ulteriormente questo filmato con la saga di Evil Nan e di Ice Cream eccolo qua Mr. Meat ha trasformato il cacciatore in un maiale ma dove ha ottenuto questa ricetta speciale da dove ha ottenuto queste conoscenze quindi qua se noi colleghiamo tutto quanto poi anche con la ninna nanna di Sister Madeleine che Mr. Meat conosce fa capire che Mr. Meat ha avuto l'incontro con la sua retta Mr. Meat ha conosciuto Evil Nan e da lei ha ottenuto la ricetta segreta la ricetta speciale che trasforma fa le varie cose e infatti è per questo che prima vi ho detto di tenere a mente il maiale mutante perché Mr. Meat con la ricetta speciale trasforma le persone in maiali mutanti Sister Madeleine la sua retta lei ha creato i famosi polli mutanti utilizzando la ricetta segreta quindi guardate qua tutto quanto collegato tutto quanto che si collega insieme e chissà se su Mr. Meat 2 vedremo ulteriori collegamenti fra queste cose chissà se questa cosa verrà ampliata ulteriormente e adesso passiamo al filmato finale definitivo della serie di Mr. Meat 1 siete pronti a vederlo quello dove Mr. Meat viene arrestato definitivamente questo che andremo a vedere è un filmato molto particolare perché quanti che i Playlands hanno dato diciamo le prime anticipazioni in diretta di Mr. Meat 2 lo hanno fatto mostrando questo filmato il filmato dell'arresto del macellaio e adesso lo vedremo insieme ed eccolo qua noi siamo tornati dopo che abbiamo salvato Rebecca per fermare una volta per tutte Mr. Meat facendolo arrestare e infatti noi guardate qua a mele infatti non c'è più nella stanza perché abbiamo salvato prima per questo non si trova più lì dentro però Mr. Meat è stato arrestato è finito dentro la stanza si dentro l'auto della polizia e qua però non è finito ed eccolo qua infatti nella descrizione dice poliziotto finalmente catturato il terribile Mr. Meat ma che cosa succederà dopo succederà dopo tutto quanto quello che ci sarà su Mr. Meat 2 nel prossimo capitolo di Mr. Meat noi non saremo all'interno della casa di una fattoria così a caso saremo all'interno di una prigione Mr. Meat è stato arrestato portato in prigione quindi adesso finalmente possiamo creare una sorta di storia di Mr. Meat 1 no perché abbiamo visto prima noi siamo venuti a salvare Amelia torniamo una seconda volta per salvare Rebecca e infine torniamo una terza volta per fermare definitivamente Mr. Meat ma l'abbiamo fermato definitivamente no perché su Mr. Meat 2 lo riaffronteremo all'interno della prigione quindi che dire per il momento direi di finire qua il video fatemi sapere cosa ne pensate spero che questo video sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando spalliciate condividete iscrivetevi al canale con la campanella attiva non ci vediamo il prossimo video come sempre vi auguro una paginata per la serata buona notte ciao a tutti buon parino notte